Ci pensano gli alpini. Sabato 18 gennaio i volontari del Nucleo di Protezione Civile della sezione Anna di Lecco, insieme a quelli delle sezioni di Milano, Varese, Luino, Bergamo e Valtellinese, saranno impegnati in un maxi intervento nell'Alto Varrone, volto a realizzare opere di risanamento dei danni causati al maltempo dell'estate 2019. Oltre 120 persone saranno impegnate nei sei cantieri aperti nei territori comunali di Premana e Pagnona. Tra gli ambiti di intervento, la ricostruzione dei muri a secco con contestuale riparazione dei sentieri danneggiati, la costruzione di barriere a gradoni per il contenimento delle frane e la pulizia del reticolo idrico minore, con il supporto di squadre alpinistiche specializzate valtellinesi. Sul totale dei volontari impegnati nell'intervento, 60 sono appartenenti alla sezione Anna di Lecco, mentre gli altri fanno riferimento alle altre sezioni lombarde aderenti all'iniziativa. La giornata vedrà impegnato anche il personale della Croce Rossa italiana, che allisterà un posto medico avanzato. La direzione dell'intervento è affidata a Giuseppe Daielli, coordinatore del nucleo di protezione civile dell'Anna di Lecco. Personalmente avrò il controllo di tutta l'organizzazione e sarò assistito da tutto lo staff del nucleo protezione civile, spiega lo stesso Daielli. Questo intervento viene realizzato a seguito degli accordi presi con i sindaci dei comuni interessati e dalle promesse fatte alle amministrazioni e ai cittadini dagli alpini. In questi territori vivono molti alpini che non si sono mai tirati indietro quando è stato il loro turno di aiutare chi si trovava in un momento di bisogno. Sono davvero molto soddisfatto per questa bella occasione di collaborazione della nostra sezione con altre sezioni lombarde, aggiunge il presidente sezionale Marco Magni. Da parte nostra la collaborazione non è mai mancata, ne sono un esempio recente, gli interventi per la costruzione della stalla Abisso, uno dei centri colpiti dal terremoto del 2016, e la realizzazione del Campo Scuola 2019 con la sezione di Milano. Tutto questo testimonia come gli alpini sono un elemento fondamentale per la nostra società, nonché un supporto certo per le comunità e le amministrazioni. Gli alpini alloggeranno nella palestra comunale o nei locali dell'oratorio parrocchiale di Premana. Grazie. Grazie.